Oggi è il grande giorno, che cosa faremo stasera per la prima volta? Ci arrampicheremo Ci arrampicheremo sui muri a fare come Spider-Man Amelia, ciao! Cosa fate stasera per la prima volta? Arrampicata La prova di arrampicata, vero Ami? Anche tu? Siete contenti? Sì Oh, bello! Poi vengo anch'io ad arrampicarmi insieme a voi Facciamo... Come no? Adesso fate colazione Una colazione sonissima stamattina E buona scuola Allora, cuccioline, siete pronte per stasera? Sì Ok, fatemi vedere una simulazione di arrampicata Mimatemi l'arrampicata Mentre tossisce, amore? Ci si arrampica mentre si tossisce? Allora, tu aspetta Allora, ho un'idea Ho un'idea, ragazzi Piede Piede Non ti devi lanciare dalla montagna Neanche tu, eh? Eh, sì! Ma quando c'è la montagna? Eh, buh Chi lo sa Lo scopriremo strada facendo Ciao ragazzi Sono in ritardo per la scuola Però sono contenta Perché stasera vado a fare l'arrampicata Ciao Amore, sei super entusiasta Di questo nuovo percorso Che inizieremo stasera Arrampicata Sì Cos'è che ti rende felice? Una cosa che abbiamo scoperto oggi Cioè? Che poi si va in montagna Loro facciamo il pigiama party E anche l'arrampicata E andiamo pure al mare Anche al mare o sul lago Praticamente loro fanno il centro estivo O al mare, sul lago, in montagna E vi fanno arrampicare E fanno anche il pigiama party Sei felice? Sì Buongiorno Anche Anastasia è entrata a scuola Ed è super felice Di questa nuova esperienza Che inizierà questa sera Speriamo che le piaccia Quindi si tratta di arrampicata Per noi è una grandissima novità Non abbiamo mai fatto nulla del genere Quindi appena uscirà da scuola Farà merenda veloce in macchina E ci avvieremo verso questa palestra Ci vediamo dopo Qualcuno di voi ha già fatto arrampicata? Se sì, mi scrivete nei commenti Se vi è piaciuto E se continuate a farlo Perché appunto è un'esperienza bellissima Buongiorno Buongiorno È giunto il momento di andare a prendere Anastasia Finalmente iniziamo questa prova di arrampicata Vanessa, tu invece dove vai? All'oratorio All'oratorio E io sarò con te all'oratorio oggi? No Ed è la prima volta E sei contenta? È la prima volta che la mamma ti lascia, vero? Le monede Ma ne ho No È sicura? Vanessa Sì Calmati È la prima volta che la mamma ti lascia da sola Sì Quindi che cosa devi fare tu? Anzi che cosa Devi giocare Devi giocare E che cosa non devi fare? Devo non andare via Esatto Fuori dall'oratorio Ti ho vado Ascoltami Guai a te se esci dall'oratorio Vanè Se io scopro che tu sei uscita Ti tolgo il telefono e non riesci più di casa Ti sto dando Ok Ti sto dando una responsabilità Non tradire la mia fiducia Ok Ciao Ciao Ma io come devo fare? Andiamo a prendere Anastasia E' tornata Anastasia È il telefono messo un po' più grande e un po' più piccolo Cosa vuol dire? La telecamera Anastasia come è andata a scuola? Bene Tutto bene? Hai preso qualche voto? No Cioè Cosa hai fatto? Hai fatto qualche verifica? Guarda Giada Guarda Giada Un panino Giada Un panino Non l'hai visto Eh lo so E lo so E oggi per te è stata la prima volta Sei pronta? No Non sei pronta Sì Ad arrampicarti Guarda che poi Se non mi fanno entrare a casa Mi devi far vedere tutto quello che hai fatto Ti devi arrampicare i sui muri di casa Va bene Ok Adesso signorine Io vi porto in oratorio A te Questa Psicopatica E per la prima volta Lascerò Vanessina da sola Quindi mi raccomando Giada Lo dico anche a te L'ho detto anche a lei Non uscite dall'oratorio Perché senza il permesso Di un genitore Non si può fare Va bene? Ok? Non mi guardare così Giada È la verità Anastasia ho detto Esci esci Anastasia Tu non uscirai mai da sola Tranquilla Hai finito? Non hai ancora finito? La smetti? Guarda che ti porto con me Mi raccomando Ciao 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 Attente adesso State sempre sul lato sinistro della strada Ok? Sì Dai Va bene Ciao Ciao Tranquilla Allora Anastasia Siamo arrivati Ma non sappiamo dov'è esattamente il posto Quindi lo andiamo a cercare Sei contenta? Sì Sì amore? Sì Sei curiosa? Sì Però ti fai una coda Adesso vediamo A parte che secondo me Ti mettono anche qualche imbragatura A me gli ho detto Che forse danno lo zaino con gli stickers Ah sì? Forse sì Con gli stickers? Sì Arpina Ma le dobbiamo cambiare? Ha detto di toglierle sì Noi sì voi non lo so Che bello Anna ma è bellissima Wow Io a me l'abbiamo già accettato prima Avete già accettato? Sì Di venire Prima prova Poi decidiamo Ok I cucciolini Come avete potuto vedere Anastasia è entrata È bellissima la palestra Le pareti sono stupende Però io non posso restare E quindi sto uscendo Ci faremo raccontare tutto da lei Più tardi Mi dispiace tanto Perché avrei proprio voluto vedere Di che cosa si trattasse È una lezione di arrampicata Però sicuramente Se vorrà poi continuare Avremo modo di vedere qualcosa Niente dai Dopo ci faremo raccontare da lei E ci faremo mimare Qualcosina Nel frattempo Ho chiamato Vanessa E non mi ha risposto Ah il telefono spento Ma io ne sto raggiungendo Le farò una bellissima sorpresa E se non la trovo Sono cavoli suoni Eccola l'ho trovata Era qua la mia bimba Hai giocato in scarico amore Perché ho provato a chiamarti Ma non mi rispondeva nessuno Non sono potuta restare Da Anastasia Tra mezz'ora vado Adesso mando un messaggio ad Asia E tu vai con Giada E poi ti vengo a prendere le sette Ok amore Buon divertimento Ciao Ok ragazzi È passata un'ora Sono qua ad aspettare Che esce Anastasia E poi ci facciamo raccontare Tutto Ti è piaciuto? Sì Adesso mi racconti tutto Amore Adesso andiamo a casa Cos'è che ti hanno regalato? Quindi è vero Che regalavano lo sticker Sì Ti è piaciuto? Sì Carina Fai merenda Poi mi racconti tutto D'accordo? Sì Ciao Alessina Bentornata dalla tua lezione di hip hop Io devo ancora farmi raccontare Da tua sorella Che cosa ha fatto A questa lezione Prova di arrampicata Adesso tu vai a farti la doccia Perché la serata non finisce qui Sto per vomitare A furia di sarti dietro E adesso andiamo alla ricerca Di Anastasia Che non vuole Assolutamente Io veramente Non so dov'è Non riesco a capire E' sparita Ma così Di colpo Che strano Eppure era qua Un minuto fa Sul divano Anastasia Dove sei? Non capisco C'è un leopardo però in casa Attenzione Aiuto Un leopardo Un leopardo Un leopardo Ah ma è Gasper Che vuole entrare nella sua cucetta Anastasia Chiacchieriamo un po' Anastasia dove vai? Allora dai Raccontami un po' Allora Allora E' letterata Sono sempre Tutte le regole Ho provato la vera Allora Dai amore Su Raccontami Io non so nulla Non ho potuto partecipare A questa Lezione prova Adesso Ok Nome Romina Quello? Ariano Ok Ah su Instagram Non so Facebook Sono nata Sono nata su Instagram E su Facebook Sì Esatto Che c'è Niente Ok dai Cosa avete fatto? Siete entrati? Cosa avete fatto? Noi abbiamo L'unica cosa che abbiamo potuto visionare Sono state le stanze Con le pareti Con quelle Allora C'erano le cose C'erano Nelle cose Il percorso è stato così Iniziamo con delle cose Nella stanza numero 2 Sì Quella dei piccoli quindi Sì Si l'ho vista Siamo a Nortili E abbiamo 2001 2002 2003 Con un piede lì Un piede Sopra una Ma sulle rocce? Cioè sulle rocce Sulla parete? No Per te Per terra? Sì Ah Mi ho preso un'acqua E ho messo un piede Poi un altro Per son piede Ho stoccato 1.1 1.2 1.3 1.1 Perché 1.1 Te l'ha spiegato? Andava avanti Andava avanti Andava avanti Andava avanti Andava avanti Andava avanti Nel senso che ti arrampicavi? Sì Sì? Poi c'era Allora Sai come c'è Fai le cose lunghe Con le righe Ci sei riuscita? Sì Ok Cioè sono andata Su una cosa Andata di sopra Sì E Mi mettiamo E? E poi c'era Allampicavo Sai quel buco? Il buco che c'era Nella stanza dei piccoli? Sì Quello in alto Sì E andavo lì Sì Ah ecco dove mi sono Allampicata Con le cose là Quando entro Vi so che c'erano Le cose di là Più o meno E poi Sono rientrata Sono allampicata Ancora Ma cosa devo aspettare? Ani Cosa stai combinando? Come niente E allora torna? Mamma mia Dai amore Ti stiamo aspettando amore Il tempo scorre E tu non ci sei Ma ci ha messo Una cosa scocca Ho scritto il nome Dovevi scrivere Io ho scritto Sulla maglietta di Amelia E me l'ho scritto Sulla mia Ma veramente? Sì Ma l'hai scritto Sulla scoccia mia Anastasia Con che cosa hai scritto Sulla maglietta adesso? Col pennarello? No Evidenziatore Evidenziatore L'evidenziatore va via Dalle magliette Anastasia Va bene Quindi alla fine Sei andata nel buco Poi quando siamo Andati nell'altra stanza Ci stiamo Allora Vabbè Soprattutto Stiamo con il bigliettino Ci stiamo Sdraiati Messi così Sì E anche Ho pensato Un animale A una persona A una Posso chiederti A quale animale Hai pensato? All'io detto All'io detto Hai la persona? No nessuno Potrei dire solamente la cosa Ah Poi Nell'altra stanza Ha messo delle cose Sì E nella prima dovevi Stancare Così Faccio Faccio Sapevo io che mi avrebbe disfatto la casa C'era una riga E dovevi saltarla Poi ce n'era Un'altra Sì Un'altra Era così Dovevi saltarla Ok Nella seconda Era sempre così Dovevi andare Poi ci davano i punti In percorsi Insomma Noi erano i due Noi sei Ah Tutti che facevano la prova oggi? Sì No due No fino Erano già venuti? Poi Sì Ancora Sarà l'altezza Sì Sì E tu sei riuscita a tenerti? Con le braccia? Sì Brava Sei forte Sei un leocardo Poi saltati sotto Poi c'era una cosa Hai visto quella cosa verde? Così Delle cose Quelle delle rocce Sì Quella cosa verde E dovevi passare sotto Ok E poi se passate ti davano Cinque punti Credo E tu ci sei passata? Sì Sei stata brava insomma Hai preso i punti? Sì Sì Ok Poi Poi Ti doveva rafficare Il mare Ti sono andata Ampigate un po' E basta Dove vai? Poi c'era questo E c'era una parete Con dello scotch Faccio di così Uno Altra E lanciare Sempre forte Dai Che forte Così Sempre così Molto dinamica Come attività però Uno Era di più Ma va Due Forte E tra Poi così No Prima Però di quello C'erano due cose Sì Tipo in piedi così Una e l'altra Ti lievi Sì Prima C'era C'era Tipo questo Un Questo Di mattone Ok Poi c'eri così Una E due E poi Come ti chiedi? Mille uno Mille due Mille tre Perfetto Diciamolo tutti insieme Cuccelini Mille uno Mille due Mille tre E vai Poi amore Poi c'era Poi c'era Una Una cosa Sai quelle cose Cerchio Che tu metti sopra il piede Poi Gira 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 Eh Andate a mettere Poi c'era Poi c'era Un cerchio Tipo questo E saltami E sono tipo Quelli che fanno così Quelli Non quella Sempre Ok Non le fai Quelli che fanno Vanno pure giù Tipo questo Andate su Qui Poi c'era Sai quelle cose Che sono le nere Amore Una leggera Ok Una leggera Che faceva così I pesi I pesi Ah Per la cosa Così Madonna amore Ti stai rifacendo Tutta la lezione È il fiatone Sì Oh calma Finito Allora Ti devo dire la verità Finché tu Non me l'avevi raccontato Non mi aveva Entusiasmata Molto Ora che me lo hai Raccontato Mi piace Come attività Nel senso che È molto dinamica Hai fatto tanti esercizi Veramente tanti Infatti Sei uscita da lì Che eri sconvolta Eri stanca Adesso Parliamo un po' Visto che tu hai fatto Anche la prova Di pattinaggio Cosa ti piace Di più Pattinaggio O questo O arrampicata Tutti insieme Dieci Nove Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre E intanto cucciolini Scrivete nei commenti Secondo voi Se ha preferito Fare pattinaggio O arrampicata Due Uno Zero Quindi Cosa preferisci Non lo sai neanche te Vero Che ci pensiamo Lo sai Oh è sparita di nuovo ragazzi Ah sta scrivendo la risposta su un fogliettino di carta Secondo voi scrivetemelo nei commenti Ok E' tornata Due Uno Io letto Ferma che non si capisce Pattinaggio Lo sapevo Ti piace di più amore? Sì Allora Io onestamente non conosco questo sport Non saprei dirti Quali sbocchi tu possa avere Facendo arrampicata Ti dico la verità Pattinaggio Invece A me piace tantissimo Perché io quando vedo queste ragazze pattinare Mi danno un senso proprio di libertà Di romanticismo Di eleganza Che non ho mai trovato in nessun altro sport Hai scelto quindi pattinaggio? Sì Va bene Allora faremo pattinaggio D'accordo? Completa le nostre maglie Le nostre unghie Su www.valeteglow.shop Saàààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà